Me lo sapete dire voi adesso a che cosa serve? A che cosa serve tutto questo mare? Enrico. Mi ha filmato il mio primo modo. Io non ce la facevo stai da dentro. Ho bisogno di sapere. Ho bisogno di sapere se posso continuare a crederci. Prima di dover dare una risposta a una persona che vuole costruire con me una famiglia. Ho bisogno di sapere voi che cosa volete dal vostro futuro e da... Non vi sbagliate su quello che io sento. Ero io. Io non potrò mai darvelo quello che puoi desiderare, Atver. Io ho bisogno di capire adesso. L'altra sera avete rifiutato il vostro pretendente. È così. Perché? Lo sapete perché? Lo sai perché? Devo sapere se esiste un sistema assolutamente sicuro per non avere figli. Delle cose brutte, dai pericoli, li proteggeremo noi. Io sono bruttino. Quello che c'è tu sai come si chiama? Si chiama paura di vivere. E lo sai come si combatte? È facile. Basta vivere. Adesso però, senza rimanere. Io lo so, ma non diamo tempo. E se non andare a parlare con i miei genitori, io non so più che cosa fare per allontanare l'altro. Mi sono innamorato. Amo. Amo. La mamma è meravigliosa. Ma non posso chiederle di sposarmi se prima non ho la certezza di non avere figli. Ma io non sono all'altezza di un sentimento come il muro. Questa è la verità. E anche questa storia della paura di vivere. Forse è vera pure quella. E che cosa è per te la fiscita? La nostra finestra. Come on, come here, come here. Come on, come on, come here. Come here, come on, come on, come here. Si ho già compito, ci ho troppo di soli. Però... Senza smettermi a vivere, non siete il cavaliere. Il cavaliere, lo so bene che non sono le circostanze adeguate queste. Però ve lo dico col cuore. Io vi chiedo il permesso di frequentare vostra figlia. Io non lo so, excepto di tornare a un giro. Ci riuscirò. Spero con voi.